Come sta andando? Basta guardare fuori dalla porta, penso che oggi la risposta si dia da sola. No dai, quest'anno è veramente una bella stagione, ma rispiace un po' per chi dà fastidio un po' l'acqua, però per noi, per i pascoli, per le mucche, metterei sempre firma così, fantastica. La piogerellina, non è caldo, da Dio. Infatti vedi che siamo a 10 di luglio, c'è ancora un'erba che è verde, 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 proprio un verde fantastico. Diciamo che meglio di così è impossibile. Se il buongiorno si vede al mattino, se le mucche mangiano bene, noi magari ci ricordiamo ancora come fare il formaggio, probabilmente dovrebbero uscire anche di noi il formaggio. Penso che Casa di Viso, come la definisco io, la portofino delle Alpi, è un posto magico, dove chi viene in vacanza in Altavale, penso che su 100 persone, 99 vengono a fare un giro a Casa di Viso, perché è fantastico, merita. Merita adesso, merita più avanti, merita d'inverno. Io penso che ogni volta che arrivo qua mi si apre il cuore, c'è un'energia che ti permette di stare da Dio.